Ha dimostrato di essere una squadra che ci crede, di essere una squadra che può giocare a certi livelli. Chiaro che è una vittoria amara, perché uscire dalla Champions non era il nostro obiettivo, non la conllevamo. E' dispiace avere, in questo momento, avere dei rimpianti, perché credo che per le partite che abbiamo giocato, soprattutto all'inizio del girone, meritavamo di più se avessimo avuto quell'efficacia, quella qualità o a volte anche quella determinazione che ci avrebbe permesso di ottenere una vittoria che avremmo meritato, soprattutto, mi riferisco alla prima partita in casa con il Newcastle, dove abbiamo giocato una partita a livello tecnico nettamente superiore dei nostri avversari, creando delle situazioni clamorose che non siamo riusciti a sfruttare. Però è chiaro che è una vittoria che deve dare a me, ma io non ho bisogno, nel senso che io ho sempre creduto che questa squadra ha un grande potenziale. Sono dispiaciuto quando non riusciamo a metterlo in campo o quando non siamo riusciti a metterlo in campo con continuità. E quindi questo ci deve aiutare invece a buttarci nel campionato, dove in questo momento dobbiamo assolutamente consolidare e fortificare il terzo posto per poi sperare, trovando una continuità di vittorie o di risultati, di poter pensare anche a qualcosa di più. I campi sono indovinati quando si vince, sono sbagliati quando si perde. Beh, è normale che sia così, è giusto che sia così, ma stiamo parlando di giocatori forti. Io quando parlo del potenziale della squadra non mi riferisco a solamente 11 giocatori, ma non è così. Ne ho di più, chiaramente abbiamo avuto problemi, adesso stiamo recuperando i giocatori. Qualcuno è arrivato con delle problematiche estive di preparazione, quindi ha sofferto. Adesso stanno meglio, sono dentro, sono di qualità e quindi ci dovranno aiutare perché è impensabile se non hai dei grandi cambi o dei cambi ottimi tenere un ritmo per 95 minuti. Vale per noi, vale per tutte le squadre, quindi avere dei giocatori che invece entrano 20 minuti, 15, 12, 5, con qualità e con intensità ci possono aiutare a vincere le partite piuttosto che a perdere. Io ho spero che l'altro giocatore abbia un risultato diverso, ma stiamo in Europa e questa è stata oggi la più importante cosa. Abbiamo amato i giocatori, come ci supportano, e abbiamo bisogno di tutti i giocatori e abbiamo bisogno di tutti i giocatori di giocatori. È stato un gruppo molto forte, credo che abbiamo bisogno di gestire le partite piuttosto prima per ottenere più punti, ma infatti non è successo, ma in fine siamo ancora in Europa e è una buona cosa.